Rifletteremo adesso con Václavík su queste connessioni laterali. La formica non sa tutto, non può ricostruire ciò che accade a tutto il formicaio, ma sente vagamente che esistono delle coincidenze fra quello che accade dentro di lei e quello che succede nell'ambito di tutte quante le altre formiche intorno a lei. Esiste cioè, voglio dire, una percezione incerta delle cose che accadono lateralmente, non in successione temporale, a cui si collega una coscienza scientifica, lo dice fra poco Václavík, di tipo diverso da quella a cui siamo abituati. Nella scienza tradizionale si considera scientifico solo quello che è dimostrabile, dove c'è una relazione di causa e di effetto. Ma questo è un grande problema. Mi ricordo di un detto del mio caro amico Ruba Tridl a Vienna, un biologo di fama internazionale, che ha detto in uno dei suoi libri, dice se dico c'è il sole e per questo si riscalda la pietra, ho fatto apparentemente, ho detto una cosa apparentemente scientifica, invece secondo lui questo è sbagliato. Non possiamo dire questo perché noi non sappiamo se effettivamente esiste questa relazione di causa e di effetto. Un scienziato dovrebbe dire solo c'è il sole e la pietra si riscalda. Quindi la questione della connessione, della causalità fra le due cose, è sempre una cosa un poco dubbiosa. Il modello psicoanalitico si basa su una causalità molto molto strettamente determinata. Quello che mi è passato nel passato determina la persona che sono oggi, crea i miei problemi e tutto questo. Jung invece innanzitutto ha parlato di una finalità, cioè che l'uomo diventa qualche cosa, non è solo spinto dalle forze del passato, ma anche attirato verso delle mete innate. Per di più Jung ha introdotto, più che qualsiasi altro personaggio nel nostro campo, ha introdotto questo concetto della sincronicità, che è tutt'altra cosa, che non è una causalità, ma è l'avvenimento sincronico allo stesso tempo di due cose che di per sé non sembrano niente da vedere l'una con l'altra. Io sono piuttosto dell'avviso che siamo noi a creare queste coincidenze. Cioè, per esempio, siamo noi che attribuiamo alla realtà c'è una certa importanza. Se mescolano un pacchetto di carte da gioco e poi vedo che mescolandole si sono ordinate magnificamente nei quattro colori e tutti quanti da uno al re, dico che questa è una cosa incredibile. Non mi rendo conto che questo ordine è così probabile o improbabile che qualsiasi altro ordine ottenuto mediante il mescolare le carte da gioco. Quindi siamo noi, con la nostra idea di quello che deve essere l'ordine o quello che sia logico, che imponiamo un ordine alle cose che forse non hanno, questo ordine non l'hanno per niente eventualmente. Siamo noi a dire l'anno 2000 sarà particolarmente importante. Sono molto, molto influenzato da Poppa, il quale dice che i fatti scientifici devono avere il carattere della falsificabilità. Solo quello che si può falsificare eventualmente dovrebbe essere chiamato scientifico. Lui si scaglia, è forse un termine troppo violento, ma lui certamente prende una posizione molto contraria a tutto ciò che, alle proposizioni, diciamo così, che lui chiama autoimmunizzanti. Cioè una proposizione la cui veridicità è dimostrata tanto dal successo o dal falimento ottenuto mediante questa, o sulla base di questa supposizione. Se io per esempio penso che la preghiera può curare la malattia, ci sono due possibilità, no? o il malato effettivamente migliora, il che sembra provare chiaramente l'esattezza della supposizione che la preghiera può curare la malattia. Se invece muore il paziente, questo dimostra chiaramente che la sua fede non era sufficientemente, o la sua preghiera non era sufficientemente forte. quindi l'ipotesi vince in ambi due casi e questa è la cosa alla quale Poppa si oppone dicendo che questo non è falsificabile e quindi non dovrebbe essere chiamato scientifico. Grazie per la visione!